Oggi la partenza del Zrupi Alps, siamo molto contenti che lo start ufficiale sia da Cless. È una giornata di festa, insomma una bellissima giornata, sarà un'occasione per vedere un po' di panorami della bellissima Val di Nonna. Per Cless ovviamente è una giornata importante, iniziano da oggi un po' le attività legate alla primavera e all'estate che speriamo ci diano grandi soddisfazioni. Andiamo preparando come al solito un ricco programma, torniamo un po' in maniera decisa a organizzare un po' tutte le attività che avevamo sospeso negli ultimi anni e quindi speriamo di avere un grande calendario che si concluderà poi con la festa dello sport a fine agosto.